Abbiamo visto che tra i tanti prodotti dello Sri Lanka c'è il tè, ma sapete che dietro questa pianta c'è una bellissima storia, una leggenda? Adesso ve la racconto. Si narra che 5.000 anni fa un imperatore cinese era seduto comodamente nel suo bellissimo giardino. A un certo punto da un albero di tè caddero delle foglie che andarono a finire proprio in un recipiente di acqua calda. Il profumo lo attirò, si versò un bicchiere, lo assaggiò e da quel momento tutti beviamo il tè.